E' ben trovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura la cronaca, torniamo a parlare della terribile tragedia che si è consumata domenica a Sindacoa Maggiore in cui ha perso la vita Davide Zavattin, 38enne, amico del sindaco di Sindacoa Maggiore Gianluca Falcomer. Proprio con il sindaco, Davide aveva passato la giornata dalla mattina fino a qualche ora prima, ad un paio di ore prima che si verificasse la tragedia. Falcomer spiega come hanno passato quella giornata, racconta appunto chi era poi Davide. Sentiamo il servizio d'apertura del nostro telegiornale. Non si sono tirati indietro nel momento del bisogno, Ligi è il loro spirito altruista. Il sindaco di Sindacoa Maggiore Gianluca Falcomer aveva passato l'intera giornata con l'amico di sempre Davide Zavattin, 38 anni, deceduto nei gittadini domenica sera nell'auto di MD, la 24enne di Summaga di Portogruaro, che si trovava alla guida. Io e Davide siamo sempre rimasti assieme, dalle 7 del mattino fino alle 16. Dopo due ore è accaduta la disgrazia, racconta il primo gittadino. Domenica infatti era la giornata di raccolta del ferro per la parrocchia. Io e Davide facevamo squadra, fin dalle prime ore del mattino ci siamo spostati per il paese con il trattore per la raccolta. Davide era infatti un altruista per natura, tanto da presentarsi in qualsiasi iniziativa solidale. Dallo scorso aprile, dopo anni di fidanzamento, Davide Zavattin e la compaesana Martina Boff avevano deciso di convivere. Un cambiamento importante per la coppia che Davide voleva suggellare. Lui ci teneva a fare una grande festa ma non ha mai avuto modo di organizzarla, ricorda il sindaco. Così domenica ci siamo fermati proprio davanti a casa per mangiare pane e salame, un po' come era lui. Poi siamo partiti fino alle 4 del pomeriggio per completare la raccolta. A casa avevo trovato la 24enne di Summaga con Martina e così Davide mi aveva invitato a completare la giornata con loro, visto che c'era la giornata delle cantine aperte in zona. Ho declinato l'offerta perché ero stanco. La coppia dei fidanzati con la loro amica sono andati invece nella vicina pramaggiore, salvo poi rientrare con il calare del sole. Ed è proprio verso le 18 che la ragazza di Summaga ha ricevuto una telefonata che l'ha preoccupata, l'armandola. Una giovane ragazza avrebbe avuto delle intenzioni suicide, spiega ancora Falcomer. La 24enne, che lo conosce bene, ha deciso di fiondarsi per farlo ragionare. È stato a quel punto che Davide si è offerto di accompagnarla. Del resto lui era così sempre pronto ad aiutare tutti. I due amici, lui vigile del fuoco ausiliario, lei volontaria della Croce Rossa, sono partiti dal centro di Cinto, poi hanno percorso via Venezia di tutta fretta. Avrebbero dovuto arrivare tra Pradipozzo e Summaga. Erano convinti che quel ragazzo avesse voluto gettarsi sotto a un treno, racconta ancora il primo cittadino. Inevitabilmente la velocità era elevata, spinti dal loro senso di altruismo, volevano salvare una vita. Purtroppo l'epilego si è trasformato comunque in tragedia. La 24enne alla guida della Volkswagen Passat non è infatti riuscita a mantenerla in strada dopo una curva, finendo nel fossato laterale, salvo poi tornare in strada per finire nel fosso dell'opposto senso di marcia, percorrendo altri 50 metri e schiantarsi contro un terrapieno che ha fatto schizzare l'automobile in aria, finendo così capovolta. Sono arrivato subito dopo, ricorda Falcomermi. Sono ritrovato davanti alla tragedia. Davide era incastrato nell'abitacolo. Sono rimasto scioccato. Tutto dovrà essere ora accertato alla polizia locale del Porto Uruarese, diretta Thomas Poles, che si avverrà di un aperito per vagliare la velocità e ricostruire le circostanze. Inevitabilmente gli agenti dovranno ascoltare la 24enne, che rimane ricoverata in ospedale a Porto Uruaro. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ne avrà per almeno un mese prima di rimettersi. Purtroppo Davide Zavatini è deceduto nello schianto dell'auto. In ospedale c'è invece la mamma, Tiziana, collassata quando, arrivata sul luogo dell'incidente, ha scoperto la morte del figlio. E intanto il medico legale Antonello Cirnelli ha eseguito l'esame esterno sul corpo dello sfortunato 38enne, accertando un importante trauma cranico e dei politraumi sul fianco destro, che di fatto hanno segnato la morte nel terribile impatto. E c'è un'altra tragedia da raccontare che arriva da San Polo di Piave e si è spento a 41 anni dopo essere stato colpito da un aneurisma quasi due mesi fa. San Polo di Piave oggi era in lutto per la morte di Luca Zaninotto, padre di famiglia che ha lasciato la moglie Manu e la figlioletta di appena sette mesi per i genitori Adriano e Flavia. Il fratello Alessandro, il malore, lo aveva colpito in casa. Non aveva sofferto mai alcuni disturbi, ma il giardino aveva accusato un forte dolore alla testa. Una volta è andato in bagno, ha perso i sensi. Subito era stato allertato il 118 sul posto, era arrivato anche l'elicottero all'ospedale di Treviso, è stato poi sottoposto a un delicato intervento alla testa. La rottura di un'arteria avevano reso la situazione gravissima. Poi è arrivato purtroppo il decesso. L'uomo lavorava nell'azienda agricola di famiglia. Oggi erano davvero in tanti a salutarlo per il suo funerale. E andiamo a San Dona di Piave, cambiamo decisamente pagina, parliamo del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. Sul sito dello stesso Consorzio è stato pubblicato un patrimonio, ovvero tutti i documenti del Consorzio di Bonifica. Un importante documento per gli studiosi e non solo. Sentite. Allora, da oggi nel sito di Terrevolute, quindi www.terrevolute.it, a tutti sarà possibile accedere a quello che è il grande patrimonio documentale conservato presso il Consorzio di Bonifica appunto Veneto Orientale. Quindi chiunque, il singolo cittadino, il dipendente del Consorzio, lo studente, il docente, il professore, possono finalmente vedere qual è la ricchezza e anche la diversificazione dei vari documenti che sono appunto conservati all'interno di questo archivio. L'idea è quella di valorizzare questo patrimonio, di renderlo disponibile per ricerche, per la conoscenza, anche per la semplice curiosità. L'importante è appunto conoscere questo territorio, condividerlo e anche partecipare al suo arricchimento. Cioè chiunque possa avere anche un documento personale a casa che ha voglia di comunicare, di condividere con altri, può a questo punto farlo anche attraverso questo sito. Una giornata di importanza storica, non ho nessun dubbio nel definirla tale, perché finalmente, dopo oltre due anni di lavoro, mettiamo a un fattore comune, digitalizzando il 60% per il momento del nostro patrimonio archivistico, che ci rende quindi tranquilli dal punto di vista della valorizzazione, della conservazione e della fruizione. Allora, su questo io credo il salto di qualità che abbiamo voluto far fare a questo strumento fondamentale di conoscenza e di identità è sicuramente un fatto storico. Conoscere significa poter guardare al futuro in maniera più lungimirante. ci permetterà di sapere cosa è stato fatto, chi siamo, da dove veniamo e ci permetterà di poter scegliere dove andare in maniera più conscia e anche più efficace per il territorio. Io mi auguro, oggi c'era la presenza del vicepresidente regionale, che la regione ha condiviso questo percorso, che ci dia una mano a completare, siamo al 60%, a completare l'altro 40%, perché questo diventa uno strumento per tutti. di conoscenza e di cultura, di valore, se mi è permesso, inestimabile. E quindi credo che per questo oggi è una gran bella giornata. E facendo una battuta, sono i soldi più ben spesi che il Consorzio ha impegnato negli ultimi anni. Ora andiamo a Porto Gruaro con il presidente del confartigianato del Veneto orientale, Aldo Curtarello ha parlato di studenti, studenti che, dice Martino, si devono preparare per diventare gli artigiani di domani. Una sfida non semplice, bisognerà capire come si evolve il futuro. Sentite le parole del presidente Silvio Martino. Siamo in compagnia di Silvio Martino, presidente del confartigianato del Veneto orientale e vicepresidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo. Ci siamo lasciati a Marghera su un convegno importantissimo e anche seguitissimo. e oggi lei è qui all'ITIS a Porto Gruaro con i ragazzi della scuola, insieme alla confartigianato per un progetto scuola lavoro, che non è solo dell'ITIS di Porto Gruaro, ma invece avete coinvolto anche altre scuole della città metropolitana. Ecco, un tema importantissimo, scuola lavoro. Qual è l'importanza di questo? Lei ha dato un messaggio, ragazzi, il futuro dovete capirlo prima che arrivi, perché solo in questo modo affronterete il futuro. Ecco, questo rapporto tra questi ragazzi che vanno nelle aziende possono poi incentivare questa visione del futuro? Come possiamo dire, la sua domanda, più che una domanda, era quasi una riflessione. Ci sono tre punti su questa riflessione su cui vorrei soffermarmi. Uno ha citato il convegno che è stato fatto a Marghera il 25 di ottobre. E voglio dire che quello è stato un convegno e tutto un lavoro preparatorio abbastanza complicato. Quando si fa un lavoro con i ragazzi sul tema dell'alternanza, in ogni caso dell'orientamento o del collegamento tra scuola e lavoro, il lavoro è complicatissimo. Non solo complicato, direi si avvicina quasi all'impossibile. L'altro tema, un po' che è stato così sottolineato, è il futuro e se questi ragazzi potranno essere il futuro del mondo dell'artigianato. E' vero, ormai le tendenze vengono studiate in maniera analitica, ci sono degli studi delle società che fanno solo questo. E quindi riescono a prevederlo. Però bisogna anche che questi ragazzi si impegnino a conoscere queste informazioni. Non è che se lo inventino loro al mattino, devono abituarsi a conoscere, quindi a vivere la realtà e andare a cercare, trovare e analizzare tutte queste informazioni. Perché il futuro del mondo dell'artigianato si conosce, sarà sicuramente un futuro più tecnologico, ad altissima tecnologia. Il tema dell'idraulico, ne parlavo, permettetemi una battuta, l'altra sera, domenica scorsa, ero a Ca' Foscari con il rettore, dove abbiamo presentato a 190 delegati stranieri di 35 paesi, lui cos'è Ca' Foscari per il Veneto, io cos'è sono le imprese per il Veneto e per l'export. E parlando con il rettore si diceva, ormai tutte le imprese devono essere altamente tecnologiche, altamente digitalizzate. Io banalmente ho detto, beh, guarda che l'idraulico serve ancora. E il rettore mi guarda e mi dice, ma l'idraulico è una professione altamente professionalizzante, altamente tecnologica. Questo è il futuro, cioè teniamo presente che forse è la media borghesia che ritiene il lavoro dell'artigianato, dell'elettricista, dell'idraulico qualcosa, non un prato su cui andare a raccogliere e a vivere. Ma chi invece ha una mente più raffinata e ritiene il lavoro dell'artigianato uno dei lavori più tecnologici, uno dei più avanzati al mondo. E su questo i nostri ragazzi devono assolutamente riflettere. E la Camera di Commercio questo ruolo lo deve fare, lo fa. Le imprese artigiane scendono sempre di numero, anche perché c'è il calo demografico, anche perché la consistenza delle imprese è talmente piccola che molte volte si accorpano, crescono un po' più grandi. Però senza i servizi dell'artigianato credo non ci sia civiltà e etica soprattutto. Ora andiamo a Motta di Livenza. Ricorderete il caso della tubercolosi che ha colpito duramente la scuola elementare e anche quella media, un caso che diventa un caso scuola, perché arriva direttamente a fine mese in una conferenza internazionale di Stoccolma questo caso di come è stato trattato tra l'altro dalle varie istituzioni. Sentite. Tubercolosi a scuola, il caso di Motta di Livenza sotto la lente di ingrandimento di una conferenza internazionale a Stoccolma. Il report del focolaio epidemico che ha interessato il territorio del Mottense nella scorsa primavera è stato selezionato tra gli eventi di sanità pubblica che saranno oggetto di approfondimento scientifico nell'ambito della prestigiosa conferenza europea sulla epidemiologia delle malattie infettive che è in programma dal 27 al 29 novembre a Stoccolma. I dati e le modalità di gestione sanitaria dell'evento saranno poi illustrati da un giovane ricercatore, il dottor Davide Gentili che attualmente frequenta come specializzando il servizio igiene e sanità pubblica della ULS2. Importanti sono i risultati i numeri dell'evento con 13 casi accertati di tubercolosi polmonare, 2 a carico di insegnanti, 11 a carico di bambini frequentanti la scuola elementare e poi 50 a positività alla Mantux trattate con chemioprofilassi. Di interesse per gli scienziati europei è risultato l'enorme lavoro di indagine epidemiologica con circa 1000 Mantux effettuate a centinaia di ulteriori approfondimenti diagnostici che hanno coinvolto l'intera scuola primaria di moto di livenza e i ragazzi che frequentano le prime due classi delle medie. Rilevante è apparsa inoltre la consistenza della tax force di professionisti che nell'azienda sanitaria 2 si sono dedicati alla gestione del focolaio epidemico, igienisti, infettivologi, microbiologi, pediatri, radiologi e pneumologi. E parliamo di nuovamente di ristrutturare, ristrutturare è un'opportunità non da poco soprattutto perché permette di risparmiare. C'è un progetto su tutto questo, ce lo spiega lo stesso Rossitto al microfono di Aldo Curterelli. Siamo in compagnia dell'ingegner Rossitto Francesco, lei è un libero professionista, oggi qui a un convegno a Marghera organizzato dalla Confartigianato Imprese della città metropolitana di Venezia dal titolo Ristrutturare e Risparmiare. L'obiettivo di questo convegno è la presentazione di quattro progetti tra cui uno e il suo. Qual è il suo progetto che ha presentato? Il progetto di Chioggia ha delle particolarità diverse dagli altri tre progetti perché riguarda non solo la questione del consumo energetico ma anche quello dell'accessibilità, quindi dell'abbattimento barriere architettoniche. Avevamo il problema dell'interrato con un garage che ha bisogno di essere rimesso a norma. Strutturalmente con Sisma Bonus abbiamo delle carenze non indifferenti anche perché pur essendo in zona 4 comunque ha delle particolarità costruttive non recenti perché è dell'88 che hanno richiesto di fare delle valutazioni anche compatibili con la spesa non solo nel tentativo di arrivare a un adeguamento completo però la necessità viene spesso sottovalutata la sicurezza delle persone viene un po' dimenticata se non quando c'è l'emergenza e il fatto ormai è venuto e si è ormai tardivamente presenti e quindi bisogna incominciare a pensare alle cose anche un po' prima perché la questione del risparmio è sicuramente importante ma anche la questione della sicurezza è altrettanto importante perché secondo me dovrebbe essere forse il primo pensiero visto che abbiamo un territorio italiano molto bersagliato ne abbiamo ovunque di problemi e forse anche se siamo in una zona apparentemente limitrofa avrebbe bisogno magari di più sensibilità. Ecco, questi 4 progetti che così ho avuto occasione in queste interviste di conoscere sono 4 progetti molto importanti ecco, però dopo questo convegno che ricordiamo è in diretta televisiva e anche in diretta streaming per cui ci saranno moltissime persone che stanno ascoltando e poi rivedranno questo convegno anche in replica eccetera attraverso anche le pagine delle categorie e anche degli ordini professionali ecco, cosa si sentirebbe di dire lei però alla signora Maria visto che ci sono questi bonus visto che c'è questa possibilità di risparmiare per ristrutturare in maniera meravigliosa? Allora, la signora Maria bisogna spiegare che deve fare un investimento dal punto di vista sia economico ma anche della manutenzione perché spesso ci si dimentica del fatto che manutenzione vuol dire anche risparmiare i consumi energetici sono importanti sicurezza, come ho già detto, è sicuramente una cosa importante ma l'accessibilità vuol dire anche arricchire il proprio patrimonio economico perché mantenere bene un edificio vuol dire anche valorizzare l'edificio stesso essere anche più appetibili su un indomani sul valore immobiliare quindi forse abbiamo perso il concetto di manutenzione e bisogna far capire che l'occasione ghiotta dà delle grosse possibilità dal punto di vista del recupero della spesa certo un intervento è sempre un intervento però il recupero è molto interessante e dà delle opportunità di abbattimento notevole dal punto di vista economico che alla fine, credo che alla fine del mese visto il periodo anche storico, il contesto storico in cui siamo in cui tutti cerchiamo comunque di economizzare la propria vita quotidiana mettere un po' di risparmio da parte visto l'occasione che c'è di questi bonus in tutti i sensi potrebbe essere una buona occasione per migliorare anche il proprio stile di vita e anche gli edifici in cui viviamo perché siamo lì e l'occasione è propizia Speriamo che questo convegno e questi messaggi che poi attraverso i telegiornali stiamo dando possano portare a migliorare anche la capacità di conoscenza dei cittadini perché non sembra chi ha soldi conosce chi ha la possibilità conosce e questo è un impegno anche da parte delle categorie che vale anche tutto sommato per le categorie Sì sì, vale per tutti, vale per noi professionisti vale per le imprese valgono ovviamente prima di tutti per i proprietari tutti dobbiamo cercare di fare economia chi in un ruolo, chi in un altro perché l'obiettivo primario è quello di trovare un modo accettabile e conveniente economicamente per fare la manutenzione che è necessaria per mantenere il proprio patrimonio immobiliare Gli scatti del territorio arrivano con Vinicio Scortegagna c'è Foto Reporter Grazie a Vinicio Scortegagna grazie a voi tutti per aver scelto l'informazione del Veneto orientale questo telegiornale e gli altri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24 ci ritroveremo con le altre news rimanete qui con noi a risentirci, alla prossima